Devo equilibrarlo? A che punto sei arrivato? Adriano sono arrivato che devo battere, cioè, sto facendo le sfide per la RX-8 Fortuna che non ho bevuto il vino stasera Com'è che quando, adesso che abbiamo la Supra, c'è anche ste carrette che vanno più della Supra Carrette poi, per modo di dire, dunque c'è una Subaru e cos'è l'altra, Maudi Levati dai cojons, levati dai cojons Allora, raga, io ho un obiettivo per stasera, a parte sbloccare l'RX-8 Voglio, è dura, eh Porco cane, ah, comunque non è la TT Abbastanza facile sta gara, dai Comunque la Supra, raga, di che stiamo parlando? La Supra La Supra è pur sempre la Supra Facciamo un attimo sto autovelox qua dietro Grazie Enrico Rinfollo Oddio Aspetta che carico il nos No, raga, gli sbirri La pula, Enrico, sì, sì Devo fare l'autovelox Fa l'autovelox Ah, adesso non me lo dà l'autovelox Porco cane, raga Non lo sapevo Non lo sapevo Non lo sapevo Vabbè dai, ci rifacciamo, non è un problema Non è un problema, raga Non lo sapevo Enrico questa cosa che se vai piano non ti sgamolo E la dono a botta, dai Non si ferma, è ancora codice 18 E la dono a botta Grazie Est, sul viale dello stadio Ok Il supervisore è autorizzato Sì Ricordo Luca, ne approfitto, seguimi su Instagram e scrivimi E lo scrivo lì Grazie billone per aver condiviso Seguitemi su Instagram, raga Così siamo più in contatto E vi aggiorno quando vado in live, eccetera, eccetera Grazie Francesco per il like Grazie Alex per la condivisione Grazie Emma Emanuele per la condivisione Raga siete fantastici, mamma mia Sembra abbastanza easy anche questa gara, dai Comunque la sopra, raga La sopra tanta roba Ci hai già giocato in passato? Sì, ci hai già giocato L'avrò finito due o tre volte È sempre un piacere di giocarci Io oggi mi son fatto un piano Per tutti i giochi che vorrei portare in live con voi Ma dove cazzo è arrivato sta Audi? Vattene un attimo a fare un giro, va Però corre, eh Raga, l'Audi corre, eh Eh, sei un pezzo di merda, te Sei un pezzo di merda Finita, raga Il muro Lo becco tutto il muro adesso, guardate Guardate come becco il muro Mi stampo proprio nel muro Dopo facciamo il casello, raga Mamma mia Quando cambi le marci Bellissimo Difficile però Porco due La faccio? È easy Dopo vorrei provare a fare qualche sondaggio A che playlist sei arrivato? Sono arrivato alla tipa con la Rex 8 Però non ricordo il nome Raga, ricordate per favore il nome della tipa I-I-Z-I-Z-I-Z Ando del genere Indovina, Francesco Grazie per il like, Francesco Comunque no, volevo comprarlo Ma non l'ho trovato Quindi Mi sono arrangiato Raga, c'è Il ragazzo che viene in live Mi ha scritto di Di cambiare i cerchi Cerchi della sopra Chi era? Usa la punto Luca E Non sei l'unico che me l'ha detto Non sei l'unico Brutta curva questa L'ho presa malissimo Grazie Luca per il follow Ciao ragazzi Benvenuti a tutti A tutti nuovi Appena arrivati Per tutti Per quelli appena Per quelli che sono appena arrivati Grazie Simo per la condivisione Vi invito a seguirmi su Instagram Così lì Mi scrivete quello che volete sapere E io vi rispondo Instagram Lucky Spiller Cazzo Malissimo Facciamo 86% Dai Raga Dobbiamo Dobbiamo battere La tipa Entro stasera Gioco da PC Valerio Ho spaccato anche il casello Divertitemi un po' Sì Piero Aspettate Il veicolo è una supra blu Corre molto oltre i limiti consentiti Raga Divertiamoci un po' adesso Devo andare in città Questo tempo è un osso duro Muttana se gliel'ho data Sì sì la fermo Adesso la fermo Adesso la fermo Adesso la fermo la macchina Non ti preoccupare Non volevo Non volevo Non erano le mie intenzioni Lo giuro Eh raga L'FBI C'è che bocca Secondo triangoli Grazie Mick Per il follo Li ho rotti tutti Li ho rottuti tutti Tutti Li ho rottuti Grazie per il like Antonio Mi sa che ho fatto il guaio raga Raga mi sa che ho fatto il guaio Raga mi sa che ho fatto il guaio Allora Dobbiamo sbloccare il libretto dell'Rex8 Per i nuovi arrivati Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram Per favore Che siamo più in contatto Eeeh Lucky Spinner su Instagram Su Instagram Così vi aggiorno Quando vado in live Vi rispondo in direct Seguitemi su Instagram Sì sì l'ho finito sto gioco A te Ma pastor Secondo me è anche dal telefono Secondo me è anche dal telefono Raga Rex8 Nostra Preparatevi per dopo Che devono sbloccare il libretto E la so cazzi Rx8 la voglio A tutti i costi Ma guarda che sfiga Ma guarda che sfiga Raga 9000 like Dai arriviamo a 10.000 100 spettatori Non li facciamo Ho capito Ma troppo bella L'Rx8 comunque Guarda là E quanto cazzo corre Ciao Alessio Buonasera Come stai? Raga quanto cazzo corre L'Rx8 Come sa se ci tocca Fare il libretto Più di una volta So cazzi Sono bei cazzi Ma chi cazzo Ce l'ha messo? Anche qua Prima gara Win Grazie Outlast Background Valentino Sì sì Farò anche quello Pro street Non lo so Adolfo È quello che proprio Non mi piace F1 F1 Potrei portarlo Raga Possiamo fare qualche lobby Insieme Due giri Vai sfondo tutto Vai sfondo tutto Ma ci facciamo tante di quelle risate Raga siete pronti? Allora Allora Tre Due Uno Buon con due raga Primo colpo Cazzo Primo colpo Mi piace la Lancer La Lancer cos'è? Nono? Decimo nono? Ah ma è mai piaciuta Ste clips raga non so voi A me non piace per niente Ste clips Numero 9 eh raga io voglio quello Cazzo